Inesio 1996, 14 anni, sì, ma viene da Perugia e Laura Gretti! Perugia e Laura Gretti! Non ci interessano, questa manifestazione è pulita e sono venuta qui soltanto perché ho saputo della pulizia morale, della bellezza di Nunzio Lusso e vi prego di applaudirlo veramente perché questo concorso è gioioso, è professionale, è fatto con amore ed è fatto con una grandissima moralità e quindi grazie. E poi le ragazze sono tutte brave, lei fantastica, speriamo bene, un bacio a Stone che conosco da un sacco di tempo e che è un po' il principe azzurro della serata. Grazie! 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 Grazie!